Ti piacerebbe scapparmi, eh? Vi piacerebbe scapparmi? Ho sbloccato la reputazione 4 Sto facendo 3-1-2 Ma non me ne ero minimamente accorto Bello a tutti in compagnia, qui il vostro Killzone che vi parla Bentornati con un nuovo video qua su Battlefield Hardline Ci troviamo su soldi sporchi La modalità nella quale bisogna raccogliere dei soldi dal cavo centrale Che è questo qua E devo ammetterlo, ogni volta che non gioco a Battlefield Hardline Per un certo periodo alla fine mi manca Per quanto tante persone Battlefield Hardline lo trovano brutto Uno dei peggiori Battlefield eccetera eccetera Io lo trovo sempre molto bello da giocare Più che altro l'altro giorno stavo guardando La storia di John Dillinger Ma come lacrimogeno? Non ci voglio credere Dicevo che appunto l'altro giorno mi stavo guardando Nemico pubblico Che sarebbe la storia di John Dillinger E in quel momento mi è venuta la voglia di Giocare a Battlefield Hardline Proprio perché questo gioco mi ricorda tanto Appunto la classica scenetta tra polizia e ladri Che noi rapiniamo, loro ci inseguono e così via Eh sì, ti sarebbe piaciuto uccidermi eh Da dietro, da dietro, da dietro L'ha ferito Vai a cagherte Guardalo lì Ti si vede la torcia bro Ti si vede la torcia Ok io me la do Sciabelli Aspetta un momento Perché qua è morto qualcuno? Non so, mi sembrava che potrebbe esserci qualcuno Invece no Ho ho, raccolto RPG Vieni qua da paparino Permesso, permesso Eh scusi non volevo Noo, erano in tre Porca miseria ladro Ogni volta che faccio una cosa bella Deve arrivare il piccolo stronzo a rovinarmela Eh la madonna quanti siete qua a rapinare? La mia domanda è I nemici dove sono? Visto che tutti noi siamo qua E nessuno ci sta provando a fermare Che sinceramente a me è sempre piaciuta questa modalità qua Perché è una modalità molto frenetica Perché letteralmente camperare in questa modalità qua Non ha alcun senso Te ci muori E te Guarda che c'è uno sotto di te Zio Se magari lo vai a uccidere Mi faresti anche un favore Eccolo là, eccolo là bro Ok, t'ho salvato io eh No, stai fermo Io lo trovo un attimo miscuglio tra Cortocircuito Perché davvero qua gli inseguimenti sono continui E La modalità diciamo Cattura la bandiera Aspetta zio Ti rianimo io Non ti preoccupare Non abbandono i miei compagni Quanta gente c'è Quanta gente c'è Quanta gente c'è Quanta gente c'era Va bene che c'era il camion comando Però porca miseria Tutti lì vi dovete spawnare in quel momento Ti rianimo io bro Tranquillo No, no, no Rianima Ok Vai, vai bro Rialzatevi Combattete Combattete insieme a noi ragazzi Oh mio dio La nostra base è strappiena di nemici Te dove pensi di scappare Maledetto Vai Double kill No, 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 no Ok Hanno liberato la zona Tanto che ero morto Bravissimi C'è gente C'è gente Ah, uno ha preso Gli altri mi sa che sono sopra Guardalo là dove sta camperando questo Madonna santa Dovremmo aver liberato E stiamo anche per vincere la partita Grandi Occhio, 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 bro Occhio Ok, ucciso Attenzione, granata Ok, veicolo distrutto Non so come perché non ho ucciso io però Ok, ucciso un altro E abbiamo vinto Perfetto 36-8 Non male come risultato Dai Ok, tanto che la partita di prima è durata poco Ho iniziato anche questa partita su Hollywood Guardalo Nell'angolino Fermi immobile Orribile proprio Hollywood S è una mappa Bastanza complicata da giocare Perché per o male Tutti quanti si camperano qua dentro la casa E succede fuori un casino Che metà ne basta Ok, ucciso Perfetto Battlepack argento con l'MX4 A proposito Infatti ragazzi Ho tirato fuori l'MX4 Giusto così per onorare I nuovi operatori italiani Di Rainbow Six Siege Mettendo le loro relative armi Qua su Battlefield Hard Rain Ok No, 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 no Arrivederci Ho sbagliato tasto Porca misera Stavo mettendo la giubbata di proiettile Permesso, permesso E Arrivederci No, 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 no Non mi uccidere Oh, ma abbiamo anche l'hacker noi Dai Però ragazzi Se qualcuno prendesse anche il denaro Sapete, sai Preso Cavolo c'è uno qua Che sta salendo Uno Due E tre Perfetto Bro, sono tuo compagno Quattro Mamma mia Ragazzi La feed proprio T'ha visto T'ha visto T'è Preso Oh cavolo L'elicottero Ed eccolo qua Il primo camper della partita Livello Centocinquanta Ce n'è uno qua E occhio Preso Porca misera Che spavento Ragazzi Però dai Sto denaro Vogliamo prendere Oh cavolo Oh cavolo Spavento Dai prendi sto denaro Uno Due Tre Dai Lasciami Come il nostro deposito È stato accato Ma dai Già ci abbiamo messo Otto anni Per portare del denaro Preso Preso Dov'è l'altro Che ha rubato il nostro denaro Maledetto Preso un altro Ragazzi Siamo riusciti a difendere Il nostro bottino Io l'avevo detto Che Olivo Dils È davvero Stronzo come mappa Perché è davvero Tanto caotica Salve Non ci credo L'ha risciato E invece Mamma mia Ragazzi Preso Preso C'è gente sopra C'è un coso da rientro Non capisco dove Ardolo ha il coso da rientro Maledetti Preso Il nostro deposito Ancora Arrivo io Il nostro deposito Bro Ti piacerebbe Scapparmi Vi piacerebbe Scapparmi Ho sbloccato La reputazione Quattro Sto facendo 31-2 Ma non me ne ero Minimamente accorto Cioè prendiamo qua La MG Cos'è 38-36 Non mi ricordo Queste dovrebbero essere Delle armi Elite Ma sinceramente A me questa arma Non è mai piaciuta Gran che Cioè oddio È carina Però Boh A me non mi ha mai detto Nulla di chissà cosa Preso Ah c'è un altro Hanno messo un altro Segnalatore di rientro Porca miseria Guardalo qua Via Via sto segnalatore di rientro Muoversi Te ci muori Buongiorno Buongiorno Non so da dove sei sbocato te Mi sono un po' caccato male Eh sì Ti sarebbe piaciuto eh Un momento Sento un rientro io Guardali 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 Che schifo Che fate Chi è Begati questo Te con sto pompa Guardali Questi dove mettono i rientri Che schifo Proprio negli angolini Più nascosti Non dirmi che sono ancora Camperati là sopra Ma io non ci voglio credere Sì sono ancora Camperati là sopra Ma fate schifo Guardali Tutti i camperati Qua sopra il tetto Mamma mia Non vi stancate Proprio mai eh Buongiorno Buongiorno Cavolo mi ha spavato Pure l'altro Buongiorno Pure a lei Vabbè ragazzi Qua è pieno di gente Preso Perfetto No 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 Giù A uno Dai dove sei te Guardalo L'ho camperato là sotto Che schifo A questi proprio Non gliene frega Niente di vincere la partita Stanno solamente Camperati nel nostro spawn Preso E preso Attenzione Petra c'è un altro qua sotto Cos'è? Ah ok Mi finita la partita Mi sono spaventato Wow 58 Buonissimo Come risultato Ragazzi Questo video di Battlefield Hardline Sui soldi sporchi Può finire qua Spero tanto che vi sia piaciuto In tal caso fatelo sapere Con un bel mi piace Ed un commento Dicendomi se vorreste Altre video su questo titolo Iscrivetevi al canale Se ancora non lo siete Passate dalla pagina Facebook E dal canale di Telegram Che trovate tutto sotto In descrizione Io come al solito Vi ringrazio di cuore Per avermi seguito E noi ci vediamo Con un prossimo video Sempre by Bad Company In Italia